Nel vasto panorama degli eventi estivi, i segreti del suffragio, ovvero gli appuntamenti culturali che la confraternita del suffragio organizza ormai da innumerevoli anni, sono un momento irrinunciabile di riflessione, di spunto, di approfondimento culturale su varie tematiche o personaggi che hanno fatto parte della storia, della società, del vissuto fanese e non. A partire dal lunedì 19 e fino al 29 agosto sono in programma nove serate che si muovono in diverse direzioni parlando di cucina, poesia, religiosità e uomini simbolo ed indimenticati. Cominciamo con illustrare i piattelletti di Santa Maria del Riposo, poi abbiamo i miti e i simboli del Sagittario e la visione magica dei Celti, le donne sconosciute nella Bibbia di Monsignor Tonucci, un prete fanese che i fanesi di oggi non lo ricordano, era come un armadio, la dimora dei Vescovi di Fano di Guido Gulini, Filippo Tranquilli, dicevo, prima lo trovevamo nei crocicchi del centro storico, la cucina dei briganti di Ramoscelli e finiamo con un concerto diretto da Daniele Rossi tra aria e arco. Monsignor Giovanni Tonucci toccherà nel suo incontro il tema della figura femminile nelle Sacre Scritture, donne che attraverso il proprio essere rappresentano la testimonianza di ciò che poi avverrà. Eppure vedere che anche queste donne appena menzionate qualche volta, per lo più con un nome, qualche volta anche anonime, hanno qualche cosa da insegnare e lasciano un segno che non è qualche cosa di indifferente. Quindi direi è interessante proprio questa dimensione femminile della Bibbia che è molto più ricca di quando non si potrebbe immaginare. Venerdì 23, Aleandro Castellani, regista, autore e sceneggiatore televisivo fanese, a cui si devono le serie televisive e film che hanno fatto la storia della televisione italiana come l'affare Dreyfus o Don Bosco, con un indimenticabile Ben Gazzarra, il compito di tracciare il profilo umano e sacerdotale dell'indimenticato Don Achille Sanchioni, un gigante buono. Questo prete un po' singolare, un po' particolare, un po' eccezionale direi, senz'altro, che poi fa parte anche della nostra infanzia, forse rischia un pochino di andare nel dimenticatoio. E allora era giusto rievocarlo e farlo conoscere come figura di riferimento importante per Fano e per i fanesi. Per chi ha un ricordo più recente, invece, martedì 27, gli amici di sempre, di teatro, di risate, ricorderanno l'ultimo degli anfitrioni di Fano, il grande trascinatore Filippo Tranquilli, le sue mille facce, i suoi mille personaggi e la sua fanesitudine, che ancora sono a dimora negli occhi di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Grazie.